Allora, riprendiamo uno a fare un esempietto in più e l'altro a sfruttare questo esempio per ragionare sull'ordinamento. Io ho preso questo file prendendo spunto da un esercizio che c'è dopo sulle slide, che è uno di tanti esercizi che appunto faremo dopo le vacanze. Della tipologia di quelli che faremo dopo le vacanze, ma solo per prendere spunto da un file semplice. Questo file qua contiene le voci da inserire nell'indice analitico di un libro. Cioè dice a pagina 6 viene spiegato il concetto type, a pagina 11 viene spiegato il concetto program, a pagina 8, anche a pagina 8 viene spiegato il concetto type, poi a pagina 7 c'è un esempio, ma a pagina 7 anche viene spiegato il concetto program e così via. Quindi dice quali sono, immagino, chi scrive un libro a un certo punto evidenzierà delle parole che poi vuole che compaiano nell'indice analitico alla fine del libro, in cui andate a cercare dov'è che parla degli esempi o dei programmi e lui ti dirà in quale pagine compare. Questo file mi è arrivato così e è disordinato, contiene due campi, che era un classico file separato con campi separati da due punti, il primo campo è un numero di pagine, il secondo campo è una stringa, una parola singola, un termine. immaginiamo di volerlo, vabbè poi l'articolo che ci sono, lei vi chiede di fare altre cose, ma come primo passo immaginiamo di volerlo ordinare, metterlo in ordine di numero di pagina o metterlo in ordine alfabetico di termini, come possiamo farlo? Vabbè, facciamo un passo alla volta, cominciamo a leggerlo sto file qua. Quello che abbiamo imparato oggi è probabilmente comodo leggere sotto forma di, quindi leggi indice, leggi indice.python, proviamo a leggere l'indice, l'indice.txt sotto forma di lista di dizionari. Quindi ci possiamo fare una funzioncina leggi, nome file, me lo faccio a mano, f uguale open, nome file, in lettura, encoding uguale utf8, f.close, poi leggo uno per uno le righe del file e le metto in una lista che posso chiamare indice, sarà una lista di dizionari. For line in file, i campi sono line.rstrip di barra n punto split e indice punto append di un dizionario che contiene come chiave la pagina che è il primo campo e come altro campo, come chiave il termine, che sarà campi di uno. questo è un codice standard. Sto leggendo un file con i campi separati dal due punti, fammi mettere due punti, e lo memorizzo dentro una lista di record, una lista di dizionari. Quindi anziché, qui non ho messo la variabile record per poi fare append, ho fatto append direttamente di un dizionario, append di questa cosa qua che è un dizionario. Si può fare tranquillamente. quindi come programma principale io posso chiamare questa funzione e vedere cosa c'è fuori. non è certo, perché non ho fatto il return. chiaramente questo indice qui del programma principale non c'entra nulla con questa variabile indice della funzione, e qui se non la restituisco mi stampa none. Ok, adesso mi stampa la lista di dizionari. Quindi il primo elemento è questo, il secondo elemento è questo, eccetera. Quindi ho travasato quel file dentro una lista di dizionari. La possiamo immaginare come una tabella di tante righe quanti sono i record e tante colonne quanti sono i campi e questa volta le colonne non sono numerate 0, 1, 2, 3 come quando facevamo le matrici, ma sono etichettate da delle chiavi. Pagina, termine. E fin qua abbiamo fatto esattamente ciò che facevamo prima con l'elenco degli studenti e quello che si fa spesso sui file che contengono dati strutturati in questo modo. Adesso io voglio ordinare questo dizionario stampandoli per ordine di pagina, perché se, vabbè, a parte questo print viene brutta, ma pagina 6, pagina 11, pagina 8, pagina 7, 7, 10, 7, 20, numeri sparpagliati. Perché erano così nel file? E quindi un tentativo potrebbe essere di dire ma io posso fare prima di stamparlo metterlo in ordine? Allora, il metodo sort lavora sulle liste. Sort è un metodo delle liste. Indice è una lista. quindi è legittimo chiedermi posso fare il sort di questa lista? E la risposta è sì ma. Sì, posso fare il sort della lista ma dipende da quali sono gli elementi contenuti all'interno di una lista. Perché devono essere elementi per il quale la funzione sort, il metodo sort sappia fare i confronti. allora se sono dei numeri il confronto si fa 3 è minore di 7. Se sono delle stringhe il confronto si fa A è minore di F con le stranezze del confronto psicografico delle stringhe, va bene. Se sono delle tuple il confronto si fa se sono delle liste il confronto si fa avevamo visto a suo tempo cosa vuol dire confrontare due liste confrontare due liste significa confrontare i due primi elementi se sono uguali vado a confrontare i secondi se sono uguali ancora vado a confrontare i terzi e la prima volta che trovo una differenza il più piccolo dei due vince. Funzionano sulle stringhe funzionano sulle liste funzionano sulle tuple quindi se noi abbiamo una lista di numeri posso fare sort sì o una lista di stringhe posso fare sort sì o una lista di liste tipo una matrice dimensionale ma anche che non matrice non è detto che deve avere lo stesso numero di colonne una lista di liste si può chiamare sort sì purché io l'ordinamento lo voglia fare sulla base del primo campo e a parità del primo campo cioè il primo elemento delle liste e a parità del primo elemento vado a vedere seconde e così via che è quello che fa il confronto di liste quindi sort usa la nozione predefinita di confronto tra gli oggetti della lista quindi per poter chiamare il metodo sort devo uno avere degli elementi dello stesso tipo tutti i numeri tutte stringhe tutte liste eccetera se no non ha senso e due elementi di cui il minore sappia che cosa fare perché l'errore che mi dà è guarda io ho due dizionari e non so cosa voglia dire minore tra due dizionari sulle liste so cosa vuol dire vuol dire confronto ai primi campi e se non va bene se sono uguali confronto ai secondi eccetera è definito il significato del minore tra due liste tra due dizionari no ma anche perché lui come farebbe a sapere se io voglio ordinarli per pagina o per termine se queste cose qua fossero in una lista lui ordinerebbe per pagina magari tra un attimo lo vediamo perché lo ordinerebbe per pagina perché è il primo campo qui in un dizionario non esiste un primo un secondo sono tutte chiavi che stanno all'interno insieme e quindi l'ordine non esiste e allora devo dirglielo io allora andiamo a vedere cosa ci spiegano le slide ci dicono che il metodo lista sort oppure la funzione sorted lavorano iterando tante volte al loro interno un'operazione di questo genere qua confronto un elemento con un altro e quindi tutto sta nel avere elementi per i quali è definito l'operatore di confronto come ci ha suggerito il messaggio d'errore e quindi quando ho dei dati complessi si può fare il confronto allora questa tabella riassultiva ci dice sui tipi di contenitori che conosciamo che cosa succede sui numeri interi l'ordinamento avviene avviene in modo crescente su dati complessi mi dà errore perché i numeri complessi non sono ordinabili su string esiste l'ordine psicografico funziona sulle liste sulle tuple usa il criterio di confronto che avevamo visto a suo tempo sulle liste sui dizionari non si può i dizionari non sono confrontabili gli insiemi dovrebbero dare errore e stranamente non dare errore ma fare un ordinamento un po' strano perché tra i set non so se ricordate il minore serviva per calcolare sotto insiemi quindi da un ordinamento un po' strano in cui va a fare i confronti se uno è sotto insieme di un altro però capite che nella maggior parte dei casi un gruppo di insiemi non sono mai sotto insiemi proprio l'uno dell'altro sono parzialmente sovrapposti e quindi questo confronto di minore dice sempre falso cioè viene fuori un risultato che non sappiamo non ha nessun significato particolare quindi tecnicamente si può fare ma poi non serve a niente allora il problema che ci rimane è quali sono data questa tabella sui dizionari lo vogliamo fare questo ordinamento quindi dobbiamo imparare a farlo e anche sulle liste nel caso in cui il criterio di confronto sia diverso da quello che nativamente fanno le liste cioè voglio una lista di liste e voglio ordinare sulla base della terza colonna e non della prima così voglio e vediamo come si fa vabbè di tutte queste cose qua ci ricorda solo che parliamo di ordini crescenti ma se mettiamo il reverse ce lo fa decrescente allora la soluzione qual è è insegnare alla funzione sort o al metodo al metodo sort o alla funzione sorted che fa la stessa cosa in realtà solo in due modi diversi qual è il criterio di ordinamento la chiave di ordinamento qui la parola chiave non ha nulla a che vedere con le chiavi del dizionario cioè il valore sulla base del quale bisogna ordinare io devo ordinarti sulla base del numero di pagina sulla base del nome del termine sulla base della lunghezza del numero di carattere del termine allora lo posso fare con un parametro che si chiama key che fornisco alla funzione sort e in cui in questi puntini devo spiegare di qual è il criterio di ordinamento che voglio cioè quando lui ha due oggetti uno e uno un dizionario un altro dizionario una lista un'altra lista deve chiedersi un minore lui non è capace a confrontare l'oggetto intero ma dall'oggetto estrae una chiave dall'altro oggetto estrae un'altra chiave e fai il confronto tra queste due chiavi questa chiave può essere un campo interno dell'oggetto stesso la terza elemento di una lista il valore della chiave numero di pagina oppure può essere anche un valore calcolato a partire da più valori da più campi ma non andiamo a fare cose complicate partiamo dal caso semplice che cos'è la cosa che si complica un pochino dal punto di vista sintattico è che cos'è questa chi questa chi sintaticamente è una funzione perché lui internamente che cosa fa la funzione sort non fa questo confronto ma fa veramente questo confronto qui cioè prende l'elemento i e per confrontarlo con l'elemento j gli applica la funzione chi a tutti e due vede che valore restituisce questa funzione e fa il confronto tra queste funzioni allora sta succedendo una cosa che non è mai successa prima noi dobbiamo passare come argomento di una funzione una cosa che è se stessa è una funzione questo è il primo passettino piccolo di un ambito molto ampio che si chiama programmazione funzionale in cui le funzioni vengono trattate come variabili e manipolate noi non entriamo ovviamente in questo spazio molto ampio però vediamo solo il minimo che ci serve per poter usare il parametro chi una funzione che dato un elemento della lista mi restituisce un campo un valore sulla base del quale posso fare il calcolo di ordinamento posso fare i confronti allora qui abbiamo nel slider raccontato 3-4 casi di difficoltà crescente caso semplice è uno voglio ordinare una lista di dizionari in base al valore di un campo allora posso usare sort devo usare un campo chi e come campo chi posso usare una funzione di libreria che si chiama item getter che fa parte di un modulo che si chiama operator che riceve come argomento il nome del campo sulla base del quale ordinare quindi è un giro un po' strano quello che sto facendo è dire senti operator appunto item getter io voglio fare l'ordinamento sul campo numero di pagina quindi tu costruiscimi lui cosa fa ciò che fa lui è costruisce una funzione che dato un record restituisca il numero di pagina questa funzione viene restituita e passerà al campo chiave che la passerà al metodo sort che chiamerà la funzione stessa quindi chiamo una funzione per costruire una funzione che passo come parametro di un'altra funzione se noi costruisciutiamo tutto questo diciamo come chiave uso un item getter e non pensiamo a cosa succede se non pensiamo a cosa succede è più facile in questo caso specifico allora qui in questo caso cosa potrei dire io voglio ordinare stampare questo indice ordinandolo però per numero di pagina allora posso indicare qua la chiave uguale item getter di pagina di pagina la chiave è una funzione item getter che dato un item estrae un campo fa una get ricordate che inizialmente si può anche accedere con la funzione get con il metodo get quindi get il campo pagina dall'item che ti ho passato allora se faccio questo e rifaccio run lui mi stamperà la lista di dizionari ordinata dove vedete che il primo è 6 pagina 6 pagina 7 7 7 8 10 11 20 è ordinato per pagina questa funzione se la mia struttura dati è una lista di dizionari e voglio ordinare sulla base del valore numerico o stringa di uno dei campi di dizionario allora la funzione di ordinamento la funzione chiave di ordinamento me la posso fare costruire da item getter se invece volessi ordinarlo per termine vabbè ci metto qua il nome del campo termine e lui mi farà la stessa cosa ordinato per ordine alfabetico del campo termine quindi example index program program set type type quindi sono io che scelgo che dico la funzione sorta che cosa dare a vedere quando cerco di fare i confronti di questi dizionari in assenza del campo chiave abbiamo visto che una lista di dizionari non si può ordinare e questo è il caso 1 caso 2 non ho una lista di dizionari ma una lista di liste quindi immaginiamo che in questo esercizio avessimo messo i dati all'interno di una lista di liste e non una lista di dizionari vediamo cosa succede allora fatemi fare una versione di questo programma che non usi i dizionari leggi indice liste quindi prendo leggi indice lo copio lo sposto qui togliamo questo sort perché sappiamo che c'è dei problemi indice faccio semplicemente apprendi i campi cioè nella mia lista indice nella lista grande non ci aggiungo un record fatto estragendo i campi eccetera eccetera ma ci metto direttamente una lista di valori ciò che mi arriva dalla split allora questa lista è una lista di liste in questo caso ok che funziona lo stesso se ci piace come struttura dati va benissimo e in più essendo una lista di liste le liste tra di loro sono confrontabili e quindi la sort funziona non mi dà errore dopodiché mi dà i dati in un ordine un po' strano 10 example 11 program 27 6 type 7 example 7 index 7 program 8 type eh? perché? perché il confronto tra dobbiamo sempre immaginarci che l'assort fa il confronto tra i vari valori no? quindi quando lei confronta 8 type con 10 example sta facendo il confronto di due liste allora dice ah come si fa il confronto di due liste? vado a prendere i primi due elementi il primo elemento è 8 il secondo elemento è 10 qual è il più piccolo dei due? 10 perché sono stringhe questo non è 10 è 1 0 quindi quando sul confronto la stringa 8 e la stringa 10 lui in realtà sta facendo il confronto tra 8 e 1 1 è più piccolo e quindi vince lui eh sbagliato noi stiamo facendo i confronti di numeri rappresentati come stringhe e quindi è chiaro che li sto ordinando in ordine alfabetico non in ordine numerico abbiamo sbagliato noi ci siamo dimenticati di convertire in intero il primo campo che è l'int che non abbiamo più fatto qua ah che bello basta mettere una lista dentro e occhio che se la metti dentro così come ti arriva come stringa e poi ci devi fare delle operazioni come il confronto che a cui serve il valore numerico averla come stringa allora io prendo la riga faccio la split e una lista di stringhe e poi selettivamente i campi che devono essere numerici li converto in intero e questa volta funziona vedete che non ci sono più gli apici intorno ai numeri e i numeri finalmente sono ordinati in modo crescente quindi se io ho una struttura dati che è una lista di liste e la voglio ordinare sulla base dei valori del primo campo di queste liste funziona non devo fare niente perché è il comportamento naturale del confronto tra liste facendo attenzione come abbiamo visto qua che il tipo di dati sia gestito correttamente e se invece volessi ordinare sulla base del termine presente non del numero di pagine cioè del secondo elemento della lista non posso o meglio o faccio una lista al contrario quindi i campi di scambio qua anziché faccio append di campi faccio append di 1 e poi campi di 0 però può una schifezza perché magari in punti diversi del programma mi serve ordinarli con criteri diversi quindi però sarebbe una soluzione se so che vanno ordinati per termine li metto in una lista con il termine come primo elemento il problema è risolto oppure anche qua mi faccio aiutare della funzione item getter questa volta item getter lavora su una lista e non più su un dizionario e quindi ciò che gli devo passare non è il nome del campo chiave bensì il numero della colonna quando fai i confronti non andare a fare il confronto tra liste con tutto il criterio che ha vai a fare il confronto tra i valori che trovi nella posizione 1 cioè la seconda colonna quindi nel caso di un dizionario ci devo mettere un campo chiave che tipicamente sarà una stringa se sto usando un dizionario come record le chiavi sono sempre stringhe nel caso di liste ci devo mettere un numero che rappresenta l'indice della colonna dell'elemento rispetto al quale voglio ordinare infatti se metto questo ci sono prima le e poi le i p s t quindi questo è il caso 2 caso 1 lista di dizionari chi uguale item getter nome del campo come stringho tra virgolette caso 2 lista di liste sempre item getter con numero di colonna questi sono i due casi che ci coprono probabilmente il 98% dei casi a cui andiamo incontro poi ci sono altri due casi nelle slide che però non sto a commentare più di tanto li lascio lì che sono i casi più avanzati ancora questo è semplice se devo gestire più criteri contemporaneamente l'item getter permette di avere più parametri quindi 1, 2, 3 oppure 3, 2, 1 mi va a ordinare sulla base della colonna 3 a parità di questa va a vedere la colonna 2 e così via è rarissimo oppure se posso usare delle funzioni le quali prendano un elemento e restituiscono un numero però questo è un caso in cui bisogna fare attenzione oppure addirittura costruire una funzione personalizzata insomma immaginiamo di aver ordinare sulla base della distanza dall'origine di questi valori allora la funzione di ordinamento cioè la chiave di ordinamento sarà il risultato di una funzione che somma le due coordinate x e y allora visto che chi richiede una funzione che ritorna il valore sulla base del quale confrontare mi definisce una funzione io e gli passo il nome di questa funzione si può item getter non fa altro che costruire una funzione di un certo tipo predefinito se mi serve una funzione più strana lo posso fare e gli passo il nome della mia funzione e poi il caso ancora più complicato è usare un costrutto che si chiama lambda per costruire una funzione senza dargli un nome e usarla semplicemente come parametro della key però come vi dicevo noi non entriamo né nelle funzioni lambda né nella programmazione funzionale però per ordinare le liste dizionale effettivamente queste cose qua ci tornano utili come appendice di questo ragionamento il parametro key esiste anche non solamente nella funzione sorta ma anche nella funzione massimo e minimo e quindi se ho una lista di dizionari o una lista di liste abbiamo visto che tenghette la funzione in entrambi i casi io posso trovare qual è l'elemento che massimizza un certo valore o che minimizza un certo valore qui trova il primo elemento che ha un certo valore del voto più alto degli altri il max chiaramente nel caso di valori a pari merito mi restituirà il primo mi restituisce il primo per cui io ho questi voti qua non sono voti perché ci sono anche dei numeri bassi e il massimo è 19 la funzione max mi dà 19 però non mi dice dove si trova ricordate che in tanti esercizi abbiamo detto facciamo un max e poi vogliamo trovare dove è il massimo per poi per cancellarlo magari per farci altre cose allora facevamo il max e poi su quello facciamo index trovo il massimo e poi vado a cercare dove si trovava si sentiva un po' scemi perché l'avevamo appena trovato ma ci siamo dimenticati dove fosse e dobbiamo esserlo cercare ecco questo giochino qua si può fare calcolando il massimo non su casuali ma su enumerate di casuali ricordiamo cosa fa enumerate crea una lista di tuple di coppie il cui primo elemento è l'indice e il secondo elemento è il valore che c'era prima nella lista questa è una lista di numeri semplicissima con enumerate la trasformo in una lista di coppie se io facessi il max di questa mi darebbe questa coppia qua l'ultima perché il max va a fare confronti tra tuple e come confronto va a confrontare per primo il primo elemento il 3 col 12 il 4 col 13 eccetera e quindi il massimo mi darà 19 io voglio che il max faccia il confronto di secondi elementi quindi questo trucco è quello di dire prendo una lista di numeri faccio il enumerate che me la trasformi in una lista di coppie delle tuple calcolo il massimo dicendo il massimo di andare a vedere l'elemento secondo della tupla e quindi mi restituisce la tupla che massimizza il valore del secondo parametro e quindi mi dice guarda il tuo massimo è 19 e si trova alla posizione 12 cioè il tredicesimo della lista sono incastri di tutte queste funzioni che da sole sono semplici ma quando le metti insieme sono potenti rischiano di farti fare in una riga quello che gli amanti del C farebbero in 25 righe perché ci aiuta o ci se vogliamo ci aiuta a pensare più ad alto livello più sulla macro operazione che sto per fare non su come far girare l'indice ok quindi queste sono le nozioni che adesso dobbiamo metabolizzare tutte le nozioni che diciamo che ci servono come programma di programmazione che abbiamo definito per questo corso adesso le dobbiamo metabolizzare e imparare ad applicare in un po' di casi possibili quello che va sotto il nome di il capitolo si chiama strutture dati complesse che non vuol dire niente vuol dire cominciamo a fare un po' di esercizi in cui mettiamo insieme le cose per arrivare fino ai temi di esame in cui al fine si fa questo qui abbiamo ancora un po' di tempo per poter vedere qua chiama strutture dati complesse semplicemente la combinazione di liste tuple dizionari insieme quello che serve string per rappresentare i dati che mi servono ok in un modo che sia comodo per poter fare l'elaborazione il calcolo dell'algoritmo che mi è richiesto un esempio era questo da cui avevo tratto il file letto di prima che diceva tu immagina di avere questa cosa qua poi non l'abbiamo letta è stampata ma perché ci serviva a ragionare sull'ordinamento in questo caso qua nella slide me la fa già vedere ordinata ok cosa voglio fare? voglio prendere questo e trasformarlo in questo cioè le stesse informazioni ci sono dove ho però per ogni riga un termine diverso dagli altri e a fianco di ciascun termine l'elenco delle delle pagine in cui questo termine compare poi le parole i termini tra di loro sono in ordine alfabetico e le pagine tra di loro sono in ordine numerico quindi sono gli stessi dati di prima ma girati di 90 gradi allora se questo è il punto d'arrivo e il punto di partenza era quello di prima come faccio a trasformare le cose allora in questo caso vabbè se vogliamo leggere questa cosa qui l'abbiamo già fatto l'abbiamo letta prima come lista di dizionari e poi l'abbiamo anche letta come lista di liste il codice per leggere questo ce l'abbiamo già in una struttura che è tipicamente no l'abbiamo letta in modo bidimensionale questa è la prima voce questa è la seconda questa è la terza e poi ci stanno i numeri 6, 7, 7 type example index poi che queste siano le abbiamo messe in una lista e quindi questi sono l'indice 0 l'indice 1 o le abbiamo messe in un dizionario per cui questa è la tabella il campo pagina e questo è il campo termine cambia poco a livello di modello mentale di come sono messi questi dati però questi dati qui non li posso prendere e stamparli così allora quello che posso fare è immaginare una struttura di dati in cui i dati siano memorizzati in questo modo e poi lavorerò con il mio algoritmo per cercare di costruire questa struttura di dati combinando i tipi di contenitori che conosco dove le cose importanti che il termine che so type il termine example anche se comparivano più volte qua devono comparire una volta sola poi le devo stampare in ordine alfabetico ma quello è più facile allora a me viene in mente verrebbe in mente una struttura dati in cui io costruisco un dizionario usato come array associativo che associa a ciascun termine l'insieme delle pagine in cui compare c'è una struttura dati in cui io tutto questo è un dizionario che ha come chiavi i termini immaginate di doverlo fare a mano non doverlo leggere dal file da un formato diverso se questa cosa qua la dovessi costruire io scriverei senti questo qua ha un campo che si chiama example che è una stringa a cui associo i valori 7 e 10 poi posso decidere se questi 7 e 10 sono una lista oppure se sono un insieme hanno prove contro la lista è più facile tenere ordinata perché l'insieme non è ordinato l'insieme è più facile evitare duplicati perché non ci sono però posso sempre passare da uno all'altro non cambia niente quindi diciamo che magari scegliamo un insieme e poi avrò un secondo elemento che è index che ha con sé un insieme 7 poi il terzo elemento che è program che è associato a un insieme di nuovo 7,11 non di nuovo diverso e così via quindi mi sto immaginando una struttura dati in cui ho tante chiavi che corrispondono ai termini e dietro ciascun termine sono i dati associati ad esso che non sono un dato solo non è solo un numero perché può essere un insieme di numeri di più pagine e quindi ho bisogno di un contenitore contenitore mutabile che può contenere degli interi quindi può essere lista o insieme allora se mi danno questo stampare questo è un attimo cioè se io avessi questa struttura dati stampare questa roba qui significa andare a prendere uno per uno gli elementi del dizionario e stamparli vabbè la chiave sono quelle lì vabbè faccio un sorted per mettere in ordine alfabetico va bene devo solo fare attenzione all'ordine alle virgole alle spaziature agli a capo ma concettualmente li ho già messi nel modo giusto nel modo in cui mi servono i dati quindi il problema eventualmente è crearla questa struttura dati quindi noi potremmo però pensare di modificare il nostro programmino per non creare questa bidimensionale che avevamo prima ma creare questa su due livelli anni data proviamoci allora a questo punto facciamo un altro programma ancora che chiamiamo indice analitico in cui vabbè si prendiamo avremo una funzione leggi comincio a prendere la funzione leggi ma so che già dovrò cambiare tutto va bene no tutto no ma la parte di strip di apertura del file eccetera me la tengo adesso devo decidere o decido che la mia struttura dati che la funzione leggi calcola restituisce è un dizionario ok quindi l'indice questa volta è un dizionario vuoto inizialmente poi man mano che leggo le righe del file e lo vado a riempire questo dizionario quindi leggo un legal file e ho i campi campi di 0 campi di 1 mi facito la vita pagina uguale int di campi di 0 e termine uguale campi di 1 così non devo ogni volta nel ragionamento che sto per fare ricordarmi cos'è 0 cos'è 1 richiamo pagina e termine con due variabili locali adesso come lo popolo il dizionario lo popolo guardando il termine io posso avere due casi il termine è la prima volta che compare adesso il dizionario è vuoto il primo termine che trovo qual è? dal file type quindi leggendo questa prima riga dopo che nel leggere questa prima riga cosa devo costruire? dovrò aggiungere al dizionario una chiave che si chiama type e un valore che è l'insieme che contiene il numero 6 il solo numero 6 quindi vado a controllare se per caso il mio dizionario contiene già la pagina il termine no il termine no il termine scusate il termine termine in indice ricordiamoci che lì o anche il for sui dizionari agiscono sempre sulle chiavi mai sui valori quindi qui mi sto chiedendo il dizionario indice contiene già una chiave che si chiama termine termine oppure no se no è la prima volta che vedo questo termine e quindi dovrò crearla questa voce nel dizionario indice termine uguale quindi assegno una nuova voce al dizionario con la chiave pari al termine che ho appena letto che non è una chiave costante non è un record questo è un re associativo e quindi prende il valore che ho trovato che ho letto dal file e lo uso come chiave è associato a che valore? beh se ho appena letto la prima riga del file o comunque la prima volta che vedo un elemento ci devo mettere il numero di pagina ma attenzione non solo il numero di pagina così come numero intero perché io voglio che i valori di questo dizionario non siano dei numeri bensì dei contenitori di numeri avevamo deciso ad esempio degli insiemi di numeri quindi la prima volta che vedo un termine che non c'era ancora nell'indice creo una nuova voce nell'indice con chiave pari a quel termine e con valore pari a un insieme parentesi graffe che contiene il numero di pagina corrispondente alla riga che ho appena letto se invece il termine c'era già allora vuol già dire che l'indice contiene quel termine e contiene già un insieme il valore corrispondente a quel termine è un insieme che contiene già i numeri il barra i numeri di pagine in cui quel termine compariva e devo aggiungersi il numero di pagina corrente quindi indice di termine punto add pagina indice del dizionario termine è la stringa che so che c'è come chiave del dizionario perché questa if mi dice che c'è quindi indice di termine non mi dà errore mi dà un insieme sull'insieme posso usare il metodo add per raggiungere un elemento qual'e elemento l'intero che rappresenta il numero di pagina vediamo se funziona non è che c'è un encoding ce l'ho sopra non ce l'ho nella funzione allora vediamo cosa mi ha costruito dizionario chiave type valore insieme 8.6 chiave program valore insieme 11.7 chiave example valore 10.7 chiave index insieme col solo numero 7 chiave set valore insieme col numero 20 a parte l'ordine con cui compaiono sono i dati che ci servono giusto? e allora dobbiamo semplicemente prendere questa roba qua e stamparla in modo ordinato fammi fare un'altra funzione stampa e cosa devo fare questa stampa stampare tutti i termini quindi sarà for termine in indice cominciamo a stampare i termini e vediamo cosa esce anziché fare prendi indice e chiamo la mia funzione stampa che mi stampa le chiavi del dizionario una a una nel ciclo for alla riga 17 una a una i termini adesso mi stampa in un ordine che non è quello che voglio perché è l'ordine di inserimento nel dizionario che in questo caso per come ho costruito il dizionario è l'ordine di apparizione dei termini all'interno del file vabbè ma poco ci vuole a chiamare sorted sul sul dizionario che mi istituisce l'elenco ordinato delle chiavi e allora così adesso mi compagno un ordine alfabetico posso iterare for termine in index vuol dire iter sulle chiavi nell'ordine di inserimento for in termine in sort di index in di indice iter sulle chiavi ordinate questo accadde alfabeticamente perché sono stringhe adesso per ciascun termine devo scrivere il numero di pagina ma il numero di pagina che cos'è come lo trovo il numero di pagina beh andando a interrogare il dizionario dicendo qual è il valore corrispondente a questo numero di pagina a questo termine scusate pagina sarà indice che è il dizionario indicizzato con termine e quindi dal primo termine example che è il primo che mi viene fuori dal for in ordine alfabetico vado a vedere vado a estrarre pagine che l'insieme che è il valore corrispondente a questo termine per come l'abbiamo costruito è un insieme che contiene i numeri dieci sette esempio dieci sette index sette program undici sette adesso devo mettere in ordine i numeri di pagina perché saltano fuori gli ordinati perché gli insiemi quello fanno quindi anziché prendere l'indice di termini che il fatto di averli messi in un insieme mi ha permesso di non pensare alle pagine duplicate se un termine compare tre volte a pagina sette io lo voglio vedere una volta sola lo stesso termine a pagina sette il set mi fa questo lavoro gratis però poi me li devo mettere in ordine io e va bene prendo questo insieme e lo trasformo in una lista ordinata quindi le pagine non sono l'insieme brutale che avevo costruito ma un sort e quindi mi da la funzione di ordinamento mi da ordine gli elementi e me li mette però in una lista non più in un insieme perché se li mettesse in un insieme si rimescolerebbero di nuovo e adesso semplicemente questi numeri li devo stampare anziché sulla riga dopo li devo stampare a fianco dell'altro senza la parentesi quadre se parte da una virgola un po' di pazienza si fa da qui in avanti è solo estetica ho già i dati che devo stampare nel modo giusto nell'ordine giusto devo solo mettere a posto gli spazi separatori essenzialmente e vabbè ora dire che questo termine lo stampo concatenandolo con un due punti e uno spazio magari e dico di non andare a capo e quindi ho fatto già un passo avanti formattando il termine ci metto i due punti lo spazio e non vado a capo in modo che poi i numeri vengono stampati di fianco e adesso ho una lista che voglio stampare senza le parentesi quadre e maledetta mi viene in mente un modo brutto ve lo faccio vedere ma poi lo cancelliamo perché mi vergogno cosa ho fatto qua avevo la lista ok str pagina è una lista str di pagina è la stringa che contiene sputato la formatazione della lista così come verrebbe stampata e poi ci ho messo il range uno meno uno cioè ho tolto il primo carattere e l'ultimo che erano l'aperta quadra e la chiusa quadra ed è venuto perché la lista era in ordine stampata andava già bene così come era prima tranne per le parentesi quadre quindi mi è venuta la tentazione di dire senti ma la teniamola così togliamo le parentesi quadre però per togliere le parentesi quadre devo prima averla sotto forma di stringa non sotto forma di lista e allora str fa quel lavoro poi è una porcata perché se dicessi no ma le voglio separare col punto e virgola questa roba qua non funziona e allora come farei? beh il modo giusto è quello di fare una join questa è la versione porcata poi c'è la versione un pochino meno che è fare print virgola anzi virgola spazio punto join pagina join fa il suo mestiere prende un separatore prende una lista e stampa i vari elementi della lista separati dal separatore questo è il modulo manuale peccato che non funzioni se la lista non contiene delle stringhe in questo caso la lista contiene degli interi e la join non è abbastanza furba da di furba non so tra più furba lei ma non fa il passo ulteriore di dire se ho un intero lo converto in stringhe per poi concatenarlo perché magari tu lo vuoi formatare in qualche modo quindi non si sbilancia quindi per poter usare questo metodo devo prima costruirmi una lista di quei numeri lì sotto forma di stringa devo convertire in stringa ciascuno dei numeri di questa lista e un modo veloce per farlo c'è usare una comprension ad esempio io quindi dico pagine uguale str di p por p in pagine ricordate la sintesi del comprehension che serve per costruire una lista nuova facendo append di tanti valori iterando su i valori della lista originaria e facendo una trasformazione calcando una funzione facendo le operazioni su questi valori magari facciamolo pagina str va e no diversamente perché alla fine contiene i dati diversi quindi se pagina è una lista di numeri interi pagina str è una lista di stringhe ciascuno delle quali è ottenuta come prendendo il singolo numero intero p e convertendolo in string allora sta roba qui ovviamente ha la funzione join va benissimo e stiamo zampettando avanti da stringhe intero l'intero stringhe a secondi di quello vogliamo fare ti dici ma non le potevi tenere stringhe cioè erano stringhe questi poveretti qua me le hai messi in int per poi faticare dopo a rimettermi sotto stringa ma perché hai fatto questo lavoro? eh perché se non sorted me le ordineva male mi metteva l'undici prima dell'otto quindi quando faccio operazione di input output leggo scrivo tante volte alla fine faccio i conti con le stringhe perché devo andare alla formatazione i caratteri i separatori gli spazi quando faccio invece elaborazioni vere e proprie i calcoli le somme il massimo l'ordinamento è molto probabile che abbia bisogno dei valori veri numerici se si tratta di numeri e non della loro rappresentazione sotto forma di stringa dopodiché dopo di che se anche uno non si fosse ricordato della sintassi della comprehension si faceva un piccolo ciclo for in cui si andava in cui si andava a costruire la lista mettendo str dp per ogni valore sappiamo che la comprehension è uguale a un piccolo ciclo for con dentro degli append quindi non c'è nulla di diverso l'importante è avere la chiarezza sui passaggi che deve fare l'algoritmo poi se un singolo passaggio sei fortunato hai l'illuminazione ti ricordi magari la funzione giusta se c'è perché magari non sempre c'è allora magari la fai in una riga altrimenti la fai in 5 righe ma non importa l'importante è che tu sappia che in quel momento in quel passaggio in quel pezzo di programma che può essere di una riga di 5 di 10 stai facendo una certa operazione cioè arrivi con una lista di numeri stai uscendo con una stringa con quei numeri separati da virgole buon poi la possiamo fare in 100 modi diversi non importa e la faremo nel modo che ci viene in mente per primo oppure se abbiamo due modi possibili seguiamo quello in cui siamo più ragionavamente sicuri di non sbagliare non importa se è quello meno efficiente o se è quello che mi richiede di scrivere una riga di codici in più scelgo quello in cui mi sento più sicuro sicuro che funzioni sicuro che funzioni che io sia capace a farlo funzionare che può funzionare in generale come approccio e poi non mi vado a incasinare in cose magari più complicate più difficili di quello che so gestire o no quindi ci sta benissimo ma io lo vedo benissimo quando vedo i vostri compiti c'è chi magari fa tutti i passaggi preferisce lavorare facendo cicli eccetera perché è abituato così mi dispiace ma non è sbagliato e c'è chi invece magari vede le cose più ad alto livello riesce magari a usare una funzione a fare un giro diverso convertendo i dati in modo diverso non è un problema ciascuno trova la sua strada l'importante è aver ben chiari quali sono i passaggi le trasformazioni dei dati che abbiamo e perché vi ho detto prima che all'esame potete portare dei fogli di brutta perché questi pasticci qua li dovete fare questi scarabocchi qua o li fate o o trovate un compito che è proprio solo facilissimo banalissimo ma non lo trovate per riuscire a vederli questi dati vedere questi algoritmi questi dati come si spostano dove vanno a finire mettete i dati su un foglio di carta provate a vederli disegnarli una volta che viene disegnato questo che potrebbe non venire diciamo così come primo tentativo magari non vi è venuto in mente vedere i dati così ma per questo facciamo esercizi per trovare un po' di casi diversi e allenare un pochino la nostra progettazione delle strutture dati una volta che ho questo il resto è fatto il programma sì ho tanti piccoli dettagli devo mettere in ordine l'insieme i doppi il fai da leggere i barra n però se non so fare queste cose a questo punto sono messo male sono messo indietro non male non ho i giudizi però dando per scontato che le cose facili le sappiamo fare la cosa difficile è mettere insieme vedere come mettere insieme i miei pezzi e questo passa e purtroppo questo non ve lo so insegnare se non facendo esempi insieme passa dal vedersi qual è la struttura dati più adatta e vedersi quali sono le operazioni che ci faccio su questa struttura dati qua una volta sbloccato questo l'esercizio si tratta di scrivere codice e il mio suggerimento è cominciare a scrivere codice dalla parte più densa di algoritmo quindi in questo esempio se uno mi avesse fatto un programma che mi stampava i dati così ma al limite anche così ma quello andava bene magari non prendeva 32 rispetto invece a qualcuno che invece si è perso perdeva delle parole oppure metteva dei numeri duplicati eccetera eccetera o magari ha investito tantissimo in questa funzione qua di stampa e però dopo non è riuscito a costruire i dati giusti da stampare ok quindi poi in questo esercizio in particolare non c'è un algoritmo vero e proprio perché in realtà l'algoritmo ce l'abbiamo già qui mentre leggiamo i dati tutto il ragionamento che facciamo lo stiamo già facendo nel costruire struttura dati che sia sputato identica a quello che devo stampare non sempre è così facile ad esempio un giochino che vi posso suggerire di fare è di dire ma la funzione leggi adesso me la sono fatta a sua misura ma supponiamo che ce l'avessi già cioè se come funzioni leggi se mi avessero detto risolvi questo esercizio usando questa funzione qua per leggere il file e questa funzione che l'abbiamo fatta prima di sapere memorizza l'indice in una lista di dizionari allora se noi dobbiamo partire da una lista di dizionari e risolvere questo esercizio come faremmo? perché l'abbiamo letta nel modo più naturale in cui si legge un file di campi strutturati e poi però ci dobbiamo fare delle cose provate a pensarlo io ci vedo due modi uno dire ok ho la lista di dizionari mi scandisco la lista di dizionari e mi costruisco questo mio dizionarione quindi ho una struttura dati che mi rappresenta i dati in lettura un'altra che mi rappresenta i dati che devo scrivere in output e in mezzo a qualcosa che mi trasforma costruisco la seconda struttura di dati a partire dalla prima questo è un modo l'altro modo è quello invece di cercare di lavorare su questa struttura di dati qua e allora cosa faccio? io posso prestare tutti i campi mi faccio una piccola lista con tutti i termini la metto in ordine e poi faccio un ciclo per ogni termine un po' come facevamo ricordate l'esercizio che abbiamo fatto sul trovare gli studenti che sono nei vari corsi di studio ho fatto una passata sui dati e mi sono trovato i corsi di studio ho tolto i duplicati poi ho fatto una seconda passata per trovare quelli che avevano quel corso di studio lì e li ho contati in questo caso dovrei trovare le pagine in cui ci sono le prendo le raccolgo e le metto insieme quindi lo posso fare prendendo una struttura dati più piatta diciamo e facendo più passate più iterazioni sulla stessa va benissimo lo stesso se mi vedo meglio quella strada uso quella strada lì ok? tenete presente che queste strade sono diversissime a livello di codice a livello di struttura dati a livello di operazioni che faccio sul codice tutte giuste e uguali ma molto diverse quindi per questo che era a scarso valore confrontare la soluzione che ho fatto io con quella che hai fatto tu o cercare di dire ma che non mi viene fammi vedere cosa hai fatto tu serve a niente non mi viene cerco di farla venire cerco di capire cosa non funziona poi dopo quando l'ho fatta vado a vedere cosa hai fatto tu e ci confrontiamo ah guarda tu l'hai fatto così non mi è venuto in mente e viceversa ma le strade sono talmente diverse anche su un esercizio di tre righe come questo tre righe di testo che ci chiedono di spaziare no? proprio sulla costruzione sull'inventare sul costruire nella nostra mente un castello che è fatto di strutture dati e gli algoritmi che ci lavorano sopra quindi questo esercizio qua semplice io questo ve lo do proprio come consiglio provare a farlo a partire da questa struttura dati qua anche sulla lista di liste ma in realtà non cambia niente non cambia nulla e si può fare anche così di fatto se uno lo fa partendo da questa lista o si porta a questa struttura dati oppure di fatto lo fa come se non conoscono come se non esistessero i dizionari lavorando con le liste si può fare ok qui c'è il resto del slide non faceva altro che risolvere questo esercizio magari c'è anche quest'altro dei gelati ovviamente non lo facciamo insieme ma di nuovo è un esercizio in cui ci sono dei dati strutturati dove ho dei gusti di gelato e dei negozi che vendono con il gusto di gelato lì e bisogna anche li inventarsi sulla base dell'output che vogliamo stampare ragionare su come possiamo leggere e memorizzare i dati e questo dice usare una lista da sola non è la soluzione migliore sono esercizi che sono pensati per abituarci a pensare anche in termini di dizionari combinati alle liste chiaramente alle stringhe eccetera eccetera quindi questo se volete provare a farlo senza sbirciare la soluzione che c'è dopo in termini di struttura dati non la faccio vedere e anche poi lo potete implementare ma la cosa importante è pensare un po' come strutturare va bene io direi che come argomenti di oggi del giorno settimana mese anno abbiamo finito noi ci rivediamo appunto con quel piano che abbiamo discusso prima a gennaio ci rivediamo oggi pomeriggio e domani in laboratorio ovviamente per chi non fugge e mi raccomando provate a usare Crown Labs sul sito sul portale per qualunque dubbio qualunque esercizio che non vi viene siamo in vacanza ma non siamo su Marte e quindi possiamo ancora comunicare buone vacanze a tutti